Secondo il consueto bollettino dell'unità di crisi regionale, sono 300 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, di cui 105 sintomatici e 195 sintomatici su 8.489 test molecolari eseguiti nella giornata di ieri. Il tasso di positività calcolato, non includendo i test antigenici, è del 3,53% rispetto al 3,82 riscontrato nel giorno precedente. Il bollettino giornaliero dell'unità di crisi aggiornato la mezzanotte scorsa segnala anche 1.105 guariti e 10 nuove vittime, di cui 5 decedute nelle ultime 48 ore e 5 risalenti ai giorni precedenti. I posti letto in terapia intensiva occupati calano ancora e sono 49, mentre restano sostanzialmente stabili quelli di degenza a quota 593. Intanto nella giornata di oggi, in quella di domenica, al centro vaccinale del presidio ospedaliero del Maria Santissima Dolorata di Eboli, si prosegue con i vaccini con la convocazione della fascia di età dei 40-50 anni e con l'open per gli ultra-sessantenni. Dalle 17, invece, l'open per tutte le fasce di età.